Quando un grande personaggio legato allo sport ha una vita, una carriera sportiva lunga, complicata, forse complessa da ricordare, può andare incontro ad un processo, cioè a quello di diventare un mito. Ora, talvolta questo processo è positivo perché rende questo personaggio, che sia un giocatore, un allenatore, un tecnico, lo rende forse ancora più grande di quello che realmente è stato, ma talvolta è negativo perché questo diventare un mito cancella con un colpo di spugna quasi tutto quello che ha fatto, che fossero grandi vittorie, sconfitte, successi clamorosi, debacle, retrocessioni, promozioni, vittorie, cancella tutto e concentra l'immagine che abbiamo di questo personaggio in pochi, piccoli ed iconici eventi, senza preoccuparsi che quei piccoli iconici eventi rappresentino realmente quella persona. Quando un mese fa è morto Carletto Mazzone, poco meno di un mese fa, il 19 di agosto di quest'anno è morto Carletto Mazzone, ecco, secondo me è successo esattamente questo. Ci sono state pagine e pagine di giornali che hanno parlato di Mazzone come la nostalgia del tempo passato, la nostalgia del calcio degli anni 80, 90, inizio 2000, un calcio a cui pensare con una lacrimuccia, ci sono state pagine e pagine che ricordavano Mazzone che corre sotto la curva dell'Atalanta, con il suo pugno alzato contro quella curva che lo aveva insultato fino a quel momento e che aveva appena subito il 3-3 dal suo Brescia, ci sono state pagine e pagine che hanno ricordato Mazzone come fosse stata la versione reale, umana, se così vogliamo dire, di Oronzo Canà, dell'allenatore nel pallone interpretato da Lino Banfi. Ecco, tutto questo secondo me è stato un peccato, perché abbiamo perso l'occasione di celebrare un uomo che sicuramente di successi purtroppo ne ha portati a casa pochi, anche perché non ha allenato le più grandi squadre del nostro campionato, ma un uomo che in qualche modo attraverso una lunga carriera in cui ci sono state tante vittorie, anche tante sconfitte, per carità, ha rappresentato però un modo di intendere il calcio, un modo di intendere il calcio tipicamente italiano, ma non per questo, meno professionale. Abbiamo perso l'occasione di provare a ricordare quegli anni che oggi, come spesso capita col passato, riguardiamo, pensando solo agli aspetti romantici, per quello che erano, cioè momenti in cui il calcio è diventato qualcosa di realmente tecnico, è diventato un qualcosa che andava studiato, è diventato un periodo in cui gli allenatori dovevano prepararsi accuratamente per ogni singola partita. Abbiamo dimenticato di piangere non solo il Carletto Mazzone mito, ma anche il Carletto Mazzone grande allenatore, cioè quello che era. Ecco, quando ho iniziato a pensare di preparare questa puntata, avevo parlato con Matteo Matters, il capo bibliotecario sportivo della biblioteca, e gli avevo proposto proprio di fare una puntata del genere, un lungo racconto per raccontare tutti gli anni di Mazzone allenatore. Ma poi mi sono reso conto che era impossibile. Era impossibile perché Mazzone ha una carriera d'allenatore semplicemente lunghissima, 792 panchine in Serie A, 797 ci aggiungiamo gli spareggi, più di 1200 panchine in totali, sono un numero di partite enorme. Enorme in un periodo, peraltro, quello degli anni 80, 90, inizio 2000, in cui di partite se ne giocavano molte meno rispetto ad adesso. Un numero talmente grande che, per darvi un'idea, l'allenatore attualmente in attività con più panchine in Serie A, cioè l'attuale allenatore CT della Nazionale Spalletti, che quindi nei prossimi anni probabilmente non incrementerà questo numero, ha quasi 250, quasi 250, 240 panchine in meno rispetto a Mazzone. E quello che attualmente allena in Serie A, che ne ha una trentina ancora in meno, quindi 270 in meno panchine rispetto a Mazzone, cioè Giampiero Gasperini, per poterlo raggiungere, pur nella Serie A attuale che gioca più partite, ci metterà 8 o 9 anni. Quindi lo raggiungerà allenando da qua ai suoi 75 anni. Questo per darvi un'idea di quanto Mazzone abbia allenato. Una vita così non la si può ricostruire, e man mano che aggiungevo parti al materiale per questa pillola, mi rendevo conto di una cosa, che forse non importa, che forse si può provare a raccontare Carletto Mazzone allenatore, non simbolo, Carletto Mazzone allenatore attraverso alcuni momenti. Ed è quello che proveremo a fare adesso, senza nessuna idea di enciclopedicità, ma semplicemente provando a fare un ricordo. Un ricordo di Carletto Mazzone, allenatore di calcio, allenatore dell'Ascoli, del Cagliari, della Roma, del Perugia, del Brescia, del Bologna, di tante, tante, tante squadre, che ebbero la fortuna di essere allenate da lui. Quindi, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, e se non siete già scappati dopo questa lunga introduzione, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e iniziamo a raccontare. Credo possa sembrare strano a tanti, come è sembrato strano a me quando ho trovato le informazioni, pensare che c'è stato un Carletto Mazzone prima del Carletto Mazzone allenatore, cioè un Carletto Mazzone giocatore. Vi giuro, è stata una di quelle informazioni che nella mia mente, quando l'ho letta, mi sono sembrate ovvie, perché la quasi totalità dei grandi allenatori in passato sono stati giocatori, forse Sarri è una delle poche eccezioni che mi vengono in mente, o Murigno, ma anche una di quelle informazioni a cui non avrei mai pensato. Ed è curioso pensare che la sua carriera da giocatore in qualche modo ricalchi quella che sarà poi la sua carriera da allenatore. Nato a Roma, le sue prime due partite in Serie A, le giocherà nella Roma, nella Roma appunto, la squadra di cui sarà tifoso per tutta la vita, lo ammetterà senza nessuna vergogna, una squadra che però, lui, giovane difensore, molto forte fisicamente, alto 1,90 m, ovviamente abile, sulle palle alte, una squadra in cui, che crederà in lui solo fino a un certo punto, tanto da mandarlo a giocare in una squadra nelle serie inferiori, cioè l'Ascoli. E ad Ascoli rimarrà. Ci rimarrà per tanti anni. Arriverà in condizioni difficili, perché entrerà in una squadra rubando il posto ad un giocatore di Ascoli città, ovviamente venendo accolto quindi da dei tifosi non esattamente adoranti, ma anche una squadra in cui riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante, facendo convincere l'allenatore, convincendo i compagni, convincendo anche gli stessi tifosi, che a un certo punto lo trasformeranno in un simbolo, una squadra di cui lui stesso diventerà un simbolo, diventandone anche capitano. Il classico difensore roccioso, appunto forte fisicamente, molto abile nelle letture di quello che stava avvenendo in campo, un giocatore che, se andate a vedere le ultime immagini dei suoi ultimi anni di carriera, sembrava già starsi trasformando nel carletto mazzone allenatore che tutti noi conosciamo, anche un po' dal punto di vista fisico, con la pelata che lentamente andava a comparire. Quel periodo però finì in maniera brutale e improvvisa. Finì in maniera brutale e improvvisa durante una partita, quella tra Ascoli e San Benedettese, quando un intervento durissimo sulla sua gamba gli spezzò la tibia. Ora, oggi, un infortunio del genere sarebbe gravissimo, ma forse con le tecniche attuali, pian pianino, il giocatore si potrebbe riprendere, magari non essere più quello di prima, ma continuare a giocare a un buon livello. Ma all'epoca, un intervento del genere, una frattura del genere, voleva dire una sola cosa, carriera finita. E così fu. La prima fortuna di Carlo Mazzone, fu però quella di trovare un presidente che credette in lui. Un presidente che decise di non lasciarlo in mezzo a una strada, ma di mandarlo ad allenare le giovanili, di fargli fare ogni tanto qualche partita come allenatore della squadra maggiore, ovviamente tra un allenatore e l'altro, quando uno veniva mandato via e si aspettava al subentro, e di continuare a tenerlo in società, fino a quando, nell'annata 1970-1971, non ebbe quello che voleva, cioè un'opportunità, l'opportunità di allenare la prima squadra dell'Ascoli. Quel presidente si chiamava Costantino Rozzi ed era il classico presidente da piccola del calcio italiano, vulcanico, esplosivo, uno di quei personaggi che sembravano vivere attaccati al campo, anzi, molto spesso rimaneva all'interno del campo, seduto in panchino, vicino alla panchina, con le sue calze rosse. Uno di quegli uomini che guadagneranno notorietà infinita, partecipando a quella orgia calcistica di discussioni litigate che era il processo di Biscardi, un uomo che però con Mazzone avrà un grandissimo intuito, anche perché Mazzone, da allenatore dell'Ascoli, in quattro anni riuscirà in una vera e propria impresa, lo farà passare dalla serie C alla B, e poi dalla B alla A, e una volta in una serie A difficilissima con 16 squadre, riuscirà anche a salvarlo. Quel Mazzone allenatore era diverso dall'idea che forse di Mazzone ci siamo creati nel corso del tempo, perché Mazzone nella sua vita ha allenato, diciamolo chiaramente, principalmente delle medio-piccole, e si è dovuto un po' arrangiare con quello che aveva, creando squadre che cercavano più che altro di portare a casa dei punti, ogni tanto una vittoria, per riuscire a ottenere dei risultati a fine anno. Ma Mazzone, quando ha avuto a disposizione delle squadre sullo stesso livello delle altre con cui si scontrava, molto spesso è riuscito ad avere delle squadre che giocavano bene, e se andate a vedere i risultati di quell'Ascoli in quella cavalcata attraverso due serie fino alla serie A, era un Ascoli che giocava bene, che faceva tanti gol, che ne prendeva pochi per carità, ma che dominava anche sul piano del gioco. E questa cosa è una delle prime cose che di lui sono state sempre fraintese. Mazzone non era il classico allenatore italiano difensivista, catenacciaro, solo difesa e contropiede, ma era un allenatore molto pragmatico che si rendeva conto, come diceva lui spesso, che le grandi squadre avevano come pane la tecnica, quella dei grandi giocatori, che erano molto costosi, ma che potevano permettersi di giocare bene, ma le piccole squadre avevano come pane la tattica, e la prima tattica, ripeto, in un mondo in cui un pareggio valeva un punto e una vittoria solo due, era anche quella di difendersi e cercare di non prendere gol. Un uomo pragmatico, che però per quasi tutta la sua carriera le sue squadre non le farà giocare male, perché molte delle sue squadre, molti dei suoi giocatori, glielo riconosceranno, giocavano bene e avevano delle tattiche preparate, tattiche non esagerate, ovviamente, ma che spesso le facevano giocare bene, regalavano delle belle partite, prendevano i giocatori migliori di quelle squadre e li mettevano in condizioni di giocare al meglio. Squadre che giocavano per far giocare al meglio i loro giocatori, squadre la cui tattica era studiata su quella delle squadre avversarie, che Mazzone ogni volta studiava in maniera certosina. Tutt'altro di quell'immagine che ci siamo costruiti nel tempo dell'allenatore arruffone, del capopopolo che parlava in romanesco, ma un uomo molto, molto legato al calcio e allo studio di quello che alla fine è uno sport che necessita di tanta, tanta tattica. I suoi risultati con l'Ascoli, come succede normalmente, è forse uno dei pochissimi passaggi logici della sua carriera, ovviamente gli valsero l'attenzione del grande calcio. Grande calcio che fin dall'inizio quell'allenatore che parlava in romanesco, a volte burbero, a volte anche esplosivo nel suo modo di parlare, non lo amava e forse non lo amerà particolarmente, perché una delle caratteristiche della sua carriera è il fatto di aver forse ottenuto molto meno di quello che riusciva a far vedere. Anche quando otteneva dei grandi risultati con le piccole non trovava quasi mai nessuno che credesse in lui. Era un calcio diverso all'epoca, però. Era il calcio in cui si mirava anche all'allenatore elegante, all'allenatore gentiluomo, all'allenatore alla Nilsi Lidlm. Se andate a vedere l'allenatore del pallone con Lino Banfi, perdonatemi l'associazione, troverete che lo stesso Lino Banfi, lo stesso Ronzo Canà, cerca di assomigliare a Lidlm, pur non essendo fatto come lui, cerca quasi di diventare uno svedese. Bene, all'epoca molti, colpì da molti, attaccavano Mazzone proprio per questo suo modo d'essere, per la sua parlata, per il fatto di non rimanere ieratico in panchina, ma di urlare, di lanciare urla ai suoi giocatori dicendogli cosa fare, tutte cose che oggi forse ne farebbero un personaggio ancora più riconoscibile, ancora più iconico, ma che all'epoca forse gli chiusero tante troppe porte. Bene, in uno dei pochi passaggi logici di questa sua carriera, in realtà dopo i quattro anni all'ascolo e dopo una separazione tutt'altro che piacevole con tanto di litigata con il presidente, riuscì a passare ad una medio grande, cioè la Fiorentina, che negli ultimi anni aveva un po' limitato le sue capacità, ma che rimaneva una squadra in grado di competere. E con quella Fiorentina, Mazzone, nei tre anni che allenerà, riuscirà a ottenere degli ottimi risultati. Vincerà un trofeo internazionale, la Coppa di Lega Italo-Inglese, anche questo sembra provenire dal remoto passato del calcio. Una Coppa che si giocava, pensate, tra il vincitore della Coppa Italia e il vincitore della Coppa di Lega Inglese, e poi invece delle FA Cup, che la Fiorentina riuscirà a vincere battendo il West Ham, pensate, e riuscirà ad ottenere anche dei buoni risultati, riuscendo addirittura ad arrivare terzo in un campionato. In quella Fiorentina, Mazzone dimostrerà fin dall'inizio di essere un grande allenatore di uomini, non solo perché riuscirà a farsi amare da praticamente tutti i suoi giocatori, ma perché riuscirà anche a capire quali erano i giocatori su cui puntare, quali erano i giocatori su cui andare a costruire la squadra. E in quella Fiorentina, il calciatore su cui costruire la squadra era Antonioni, giocatore all'epoca giovanissimo, già perno della squadra prima del suo arrivo, non è sicuramente un giocatore che scopri lui, ma anche il giocatore che lui fece diventare capitano e che fece diventare il simbolo di quella Fiorentina. Anche talvolta mettendo da parte giocatori che avevano più esperienza, più anni nella squadra, che però vennero convinti che quello era necessario per rendere grande la Fiorentina. L'ultimo anno alla Fiorentina non andò bene come i precedenti e questo gli costò l'esonero e da questo momento gli costerà questa vita fatta di un gradino salito e due scesi a dispetto di quelli che fossero i suoi risultati. Andrà a Catanzaro e riuscirà a raccogliere due salvezze consecutive con una squadra che molti definivano non all'altezza della Serie A. A Catanzaro, peraltro, incrocerà la vita con un altro futuro grande allenatore, cioè Claudio Ranieri, anzi un altro futuro grande signore e la scelta del termine non è ovviamente molto voluta, Claudio Ranieri il quale di quel Catanzaro pensate era il capitano. Poi inizia a spostarsi, torna ad Ascoli da figlio il prodigo con tanto di riabbraccio con il presidente che mette fine alle discussioni e guida l'Ascoli nell'81-82 a conquistare un incredibile sesto posto con anche giocatori strani un po' improbabili come il primo, pensate, giocatore proveniente dall'Africa subsahariana del campionato italiano Zahawi per averlo pronunciato bene della Costa d'Avorio lascerà l'Ascoli e nonostante i risultati buoni ottenuti sarà costretto a scendere in B allenando prima il Bologna fallendo l'assalto alla A e poi il Lecce che invece riuscirà a portare in Serie A il Lecce in cui giocava Antonio Conte anche qui corsi e ricorsi storici andrà a Pescara e poi andrà al Cagliari dove subentrerà pensate un po' proprio a Claudio Ranieri anche qua ottenendo buoni risultati raggiungendo un incredibile sesto posto e riportando il Cagliari in Europa dopo parecchie decine di anni Finalmente questo risultato col Cagliari gli aprì le porte della squadra che più di tutte voleva cioè la Roma ed è questo un altro momento fondamentale secondo me della narrazione della vita di Mazzone un altro momento fondamentale che di solito si associa ad una cosa sola Mazzone Roma Totti in effetti i tre anni che Mazzone passò alla Roma sono passati alla storia anche perché furono gli anni in cui Francesco Totti futuro simbolo della Roma che guiderà per quasi tre decenni nel campionato italiano sono gli anni in cui Francesco Totti inizia a giocare in quella Roma Totti non era stato scoperto da Mazzone tutt'altro era stato scoperto da Bosco l'allenatore precedente ma sarà in realtà Mazzone a renderlo centrale nel suo progetto ora quella non era una grande Roma era una Roma che veniva da un incredibile decennio negli anni 80 che aveva ancora tenuto botto all'inizio degli anni 90 ma che poi aveva perso il suo precedente Dino Viola era passato ad un politico Ciarrapico che era stato persino arrestato durante Tangentopoli e che quindi era passato alla famiglia Sensi che l'accompagnerà negli anni successivi ecco Sensi era l'uomo che aveva voluto Mazzone e Mazzone non ha mai nascosto che quel passaggio alla Roma era stato un sogno che si avverava quella squadra non aveva la forza per poter competere ad alti livelli non aveva la forza per poter vincere lo scudetto era una squadra fatta da tanti giocatori nati e cresciuti a Roma con pochi forse grandi campioni e alcuni di quei grandi campioni che erano sul viale del tramonto come il principe Giannini che lui stesso riuscirà a recuperare cambiandogli di ruolo e forse allungandogli la vita calcistica ma era una squadra che in quegli anni riuscirà a togliersi tante soddisfazioni con buoni piazzamenti in campionato e soprattutto con una delle partite più iconiche di tutta la sua carriera cioè un derby con la Lazio nel 94-95 i rapporti di forza a Roma tra la Lazio e appunto la Roma sembrano tutti abbastanza chiari da una parte c'è questa Roma allenata da Mazzone di cui si dice che gioca male che sia difensivista le solite cose dall'altra parte invece c'è la Lazio affidata ad uno dei tecnici più affascinanti di fine anni 80 inizio 90 nel calcio italiano cioè Zene Zeman una Lazio che gioca col suo 4-3-3 una Lazio che fa balanghe di gol ogni partita che ne prende per carità anche tante ma che impone il suo gioco che così come il foggia di Zeman anche questa fa divertire e sembra la squadra cucita addosso al Boemo piena di campioni una squadra che sta crescendo e sarà poi quella che andrà a vincere il secondo scudetto appunto della storia laziale a quel derby a quel derby dopo poco più di 10 partite del campionato le due squadre arrivano in condizioni talmente diverse che tutti i giornali sono sicuri che a vincere quella partita sarà proprio la Lazio e quasi si scommette su quanto grande sarà la goleada che i laziali infliggeranno ai romani in quello che sembra prospettarsi come uno dei derby più disastrosi per la squadra capitolina quella della Roma le cose però vanno diversamente Mazzone non può trasformare i suoi giocatori in quello che non sono ma può sicuramente accendere la loro voglia di rivalsa e secondo quanto raccontato dai vari giocatori lo farà lo farà passando una settimana a fargli sentire quanto poco la gente si fidasse di loro facendogli leggere i titoli di giornali che ogni giorno portava nello spogliatoio per far loro vedere facendogli vedere come i giornali credessero a una vittoria della Lazio e quanto poco credessero ad un loro risultato ma la domenica in campo di squadra se ne vide una sola la Roma che passò subito in vantaggio vincerà quella partita per 3 a 0 e la squadra che mostrerà il calcio più propositivo il calcio più divertente il calcio più incredibile su quel campo sarà proprio la Roma e dopo quella vittoria Mazzone una cosa che può sembrare che potesse far sempre invece farà pochissime volte nella sua carriera andrà sotto la curva e lui romano di Roma romanista dedicherà quella vittoria alla curva i tre anni di Mazzone alla Roma finiranno arrivò se così vogliamo dire in una Roma che ripeto non era più quella degli anni precedenti e non era ancora quella che a fine millennio andrà a vincere lo Scudetto era una Roma di passaggio una Roma in trasformazione e forse sarà lui a dar vita a questa trasformazione di certo lo abbiamo detto sarà lui a rendere centrale in quel progetto quel giovane giocatore che fin dalla prima volta che vide allenarsi che vide giocare capì che sarebbe stato un campione e Totti lo ricorda molto spesso per i consigli che gli dava lo ricorda anche per avergli ogni tanto fatto anche da padre aver controllato che non rientrasse troppo tardi la sera aver chiesto agli altri giocatori di cercare di tenere quel ragazzo con una testa a posto perché si concentrasse su quello che era il gioco e non su tutto il resto e forse come lui stesso riconosce se Totti ha fatto quello che ha fatto negli anni successivi una piccola piccolissima parte di merito se la prese anche Carletto Mazzone gli anni dopo l'abbandono della Roma dopo tre anni furono anni in cui Mazzone salì alti e bassi non giocò mai più non allenò mai più una grande squadra che potesse puntare ad alti livelli ma si tolse delle soddisfazioni allenerà il Bologna un allenato in cui allenerà signori anche quello una sua scommessa lui signori tanti anni nella Lazio prima nel Foggia un uomo che aveva segnato valanghe di golle ma che dopo un infortunio sembrava finito sarà Mazzone a volerlo nella sua squadra e ad allungargli la carriera trasformandolo in un bomber di provincia ma ancora un bomber giocherà o meglio allenerà nel Napoli quale cosa andranno decisamente meno bene e la sua presenza la sua il suo essere allenatore del Napoli durerà pochissimo e poi arriverà a Brescia ecco gli ultimi veri anni da allenatore a Brescia sono forse quelli che maggiormente sono rimasti nella nostra testa Mazzone che a Brescia utilizzando il suo nome utilizzando la sua esperienza utilizzando quanto la gente poteva credere in lui riuscì a trasformare una provinciale nella squadra in cui tutti volevano giocare Mazzone a Brescia creerà un gruppo e lo farà attorno ad uno dei giocatori più iconici del calcio italiano cioè Roberto Baggio Roberto Baggio è uno di quei giocatori di cui si dice sempre è stato il più grande giocatore italiano di sempre no non è vero perché era troppo fragile i risultati sono scarsi ma era anche un giocatore che all'epoca era meraviglioso da vedere giocare era un giocatore professionale un giocatore che aveva avuto tanta sfortuna nella vita ne abbiamo parlato nella serie sui mondiali ma era anche un giocatore attorno al quale si poteva costruire una squadra e Mazzone che sarà lui in persona a convincere Baggio ad andare a giocare a Brescia gli costruirà una squadra intorno forse l'unico fin dai tempi in cui giocava nella Fiorentina a farlo l'unico a mettere Baggio nella condizione di poter ancora divertire in quei suoi ultimi anni di carriera e quel Brescia il Brescia di Mazzone sarà il Brescia dei miracoli se così vogliamo dire Mazzone negli ultimi anni in effetti di miracoli ne aveva già fatto più di uno aveva allenato il Perugia per un anno senza farsi esonerare da un altro vulcanico presidente cioè Gaucci cosa praticamente incredibile l'aveva portata molto in alto quel Perugia ed era anche riuscito all'ultima giornata a fermare la Juventus impedendogli di vincere un campionato anzi facendolo vincere alla Lazio e togliendosi anche la soddisfazione di dire ai laziali c'è voluto uno della Roma per farvi vincere uno scudetto ma quando andò a allenare il Brescia Mazzone fece qualcosa di più quel Brescia in cui andò a giocare Guardiola quasi a fine carriera in cui passò Iglitare Lucatoni in cui passò Pirlo all'epoca giovanissimo sarà Mazzone il primo a spostare Pirlo da trequartista a regista davanti alla difesa anche se poi a piazzarlo definitivamente in quella posizione ci penserà Ancelotti dopo il passaggio al Milan sarà Mazzone l'anima di quella squadra costruita intorno a Roberto Baggio e un'idea di calcio che quando lo si vedeva sul campo ripeto era molto molto meno difensivista di quello che si poteva pensare quel Brescia fu forse la miglior rappresentazione della tattica che maggiormente le chiamavano le Mazzone il 3-5-1-1 con una punta e una seconda punta libera di svariare e quella seconda punta era Roberto Baggio che era libero di inserirsi libero di inventare libero di ricevere i lanci millimetrici di Pirlo come quello che gli regalò uno dei gol più belli della sua carriera proprio contro la Juventus libero di pennellare calcio nei suoi ultimi anni di carriera tutto questo anche grazie a Carletto Mazzone ecco Mazzone fu tutto questo Mazzone fu tutto questo dal punto di vista calcistico fu emozione fu capacità fu doti professionali ed è un peccato che tutto questo non gli sia stato riconosciuto perché è quasi come voler proseguire quella narrazione che è stata fatta di lui e che forse in parte gli ha impedito di raggiungere i migliori risultati quasi come se continuassimo a pensare a Mazzone come Sor Carletto oppure come Ermagara il nome che gli era stato dato dopo che un giornalista gli aveva chiesto se visto che la sua squadra giocava bene all'epoca giocava nel Catanzaro poteva battere la Juventus lui gli aveva risposto Magara insomma come dire magari speriamo insomma ecco questi nomi il suo modo talvolta di porsi da qualche parte gli avevano forse impedito di raggiungere i risultati che avrebbe potuto raggiungere e questo ripeto è un grande peccato e così alla fine di questo viaggio in cui avete sentito il nome di tanti allenatori futuri allenatori che sono stati giocatori di Mazzone e che tanti lo ricordano con affetto pensate solo a Guardiola che lo volle con sé quando vinse la sua prima Champions League che più e più volte ricordò che cosa gli insegnò Mazzone un allenatore che nella nostra testa è in un altro mondo rispetto a quello di Guardiola dal punto di vista calcistico bene tutto questo ci parla di un grande grande allenatore un allenatore e qua chiudiamo con l'ultimo ricordo che tutti fanno c'è un documentario su Prime in cui ci sono tantissime interviste un allenatore che tutti ricordano prima di tutto come un padre come un padre severo un padre che lui diceva la domenica veniva sostituito dal suo gemello che si arrabbiava urlava e poi tornava una persona tranquilla un padre che sapeva punirti sapeva dirti cosa fare sapeva scegliere i giocatori migliori ma anche un padre che cercava di mettere quei giocatori nel migliore nella miglior condizione possibile per rendere al meglio e tanti glielo riconobbero dopo tutto Carletto Mazzone era nato il 19 marzo il 19 marzo è la festa del papà quindi questo piccolo ricordo di Carletto Mazzone spero che sia riuscito ad avere un briciolo di organicità ma come spesso capita quando si pensa a queste cose alla fine i pensieri i ricordi si assommano e tutto insieme quello che rimane è solo un'emozione e Carletto Mazzone e le sue squadre di emozioni ne hanno lasciate tante a chi come me ha vissuto solo la seconda parte della sua carriera a chi è un po' più vecchio e ha vissuto anche la prima e a chi non l'ha mai visto sul campo ma forse ne ha sentito parlare e ha visto le sue gesta magari anche qua su YouTube io mi limito a dire che anche noi tifosi di squadre che Mazzone allenatore non l'abbiamo mai conosciuto anzi che magari ci abbiamo anche perso uno scudetto contro alla fine a Sor Carletto gli volevamo bene e gli voleva veramente bene tutta l'Italia calcistica ad ogni modo come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul canale sul conto Paypal perché grazie al loro sostegno questo canale riesce a produrre molto più materiale rispetto a prima e le pillole di sport ovviamente ne sono un esempio oggi in particolare vorrei ringraziare Mark Quinto grazie mille tantissimo per il tuo aiuto forse Mark V ma credo Mark Quinto spero di aver capito bene capito la citazione insomma per il resto ci vediamo presto con nuove storie di uomini e di sport a presto ciao ciao ciao